Lui è Mario e loro sono il suo staff. Insieme sono il team iProten. La missione di oggi è proteggere le superfici di questa casa e con iProten è veloce e facile. Si adatta a tutte le superfici, anche quelle verticali. Adatto ad usi professionali e fai da te. Impermeabile, resistente e antigraffio. Facile da rimuovere e non lascia residui e grazie alla sua esclusiva formula adesiva è completamente riciclabile. iProten. Proteggere è facile. Grazie a tutti.